Il pallone per Immobile, servito Keita, Keita c'è un compagno, lo trova il Felipe Anderson, ancora largo, giù a destra, ancora Felipe, è l'uno contro uno, ricro, finale cose, di dentro, no, 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 Anderson, il cross, questa volta perfetto, il grande tocco di testa di Linkovic che mette il pallone sotto la traversa e ora siamo al ventiduesimo, Lazio 1, Pescara 0, Linkovic. E' pronto Capaldi a mettere il pallone in aria, dove c'è tutto il Pescara, parte il cross, attenzione, gol, 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 gol. E' pronto Capaldi a mettere il pallone in aria e il pallone nell'angolo, ha la festa dei Mizzotti e ora lascio la doppia, ora è ventisettesimo, il 2 a 0 per la squadra di Alcocelette, il gol del capitano Stefano Radu, lascio 2, 3 a 0, Stefano Radu a ventisettesimo. Poi il pallone per Memushai, tentativo centralmente ancora da parte del Pescara che trova, c'è una serie di rimpalli, poi Bustos spazza il pallone lontano dalle parti di Immobile. Il pallone toccato, arriva Keita, perciò il conto della lontano, 3-4-2, ancora Keita, salta nuovo, stazione, Keita, a regione, Keita, al fondo, mette il nostro imperio! Ciao! 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 Dominote! Prima rascio, nella facilitare anniversary than the city, nell'app chocolate or two. S arcano che ti lo��ano, e scolta del nostrokeep, abbiamo stupito detta un 2 A 1 a 0. Giro Immobile Fonda la porta E per la gara Per il 3 a 0 Siamo giunti alla massura Per il panettimo Lasciatele Per il 3 a 0 Giro Immobile